Allora, una bella vittoria, una partita combattutissima oggi. Come l'hai vista tu? Sì, sì, infatti è stata importantissima questa vittoria, sapevamo che questi tre punti erano essenziali per questo nostro momento. Infatti è stata lottata punto a punto e sapevamo che sarebbe così con questa squadra, perché è una squadra che lotta tanto sulla difesa. Abbiamo parlato tutta la settimana di che dovevamo lavorare i beni colpi, di avere pazienza, anche sul muro di difesa, che secondo me è stato molto meglio oggi delle altre partite e siamo riusciti a fare. Ecco, è finito il giorno d'andata, adesso avete un periodo di pausa. Su cosa dovete lavorare per ripartire al meglio nel ritorno? Sì, in realtà abbiamo ancora una partita da recuperare, solo con Busto, però abbiamo su queste tre settimane, secondo me, di cercare un po' più di sempre, questa stabilità, che si vede che la squadra c'è tanta qualità, però a volte quando siamo dietro, due o tre punti, non abbiamo questa pazienza di tornare. E dobbiamo sapere che siamo forti, possiamo sempre, cioè tutto può succedere finché non cade l'ultima palla. Allora abbiamo lavorato questo durante la settimana anche e abbiamo visto le partite che siamo riusciti a fare. Serve un po' più di fiducia anche forse. Sì, perché quando le cose non vanno bene è difficile da avere fiducia, è facile di dire no, continua, però dentro la nostra testa abbiamo tanta voglia di fare, alleniamo tanto e a volte le cose non succedono come vuoi e per continuare a avere questa fiducia si deve continuare a lavorare, secondo me, perché quello che è meritato, cioè arriva se è meritato, non so se vi spiego, però per questo ho tanta fiducia in queste squadre perché lavoriamo, non vogliamo mai stare lì anche nelle nostre difficoltà, allora meritiamo, sai che questa vittoria era tanto meritata. Grazie.